Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti, io sono Selvaggia Uzzo, io sono Luca Linder, insieme a Marco e Giovanna siamo gli amministratori di Tenerife Surprise. Perché questo titolo Tenerife Surprise? Perché per noi Tenerife Surprise è una sorpresa, quindi anche voi potete dare la vostra interpretazione a tutto quello che posteremo e che vedete sulla nostra pagina. Una sorpresa come oggi, ci siamo svegliati questa mattina, non c'è un sole a picco, siamo qui con una fantastica vista dell'oceano e non c'è un sole splendido ma comunque c'è una fantastica giornata, un po' di venticello e abbiamo deciso di fare questo video per voi per farvi vedere che cosa stiamo facendo con la nostra bella faccina con Tenerife Surprise. Sì, non siamo bellissimi, però va bene, l'importante è essere simpatici, almeno se dice così. Speriamo. Beh, poi lo giudicherete voi anche perché abbiamo deciso di aprire il canale YouTube che vedete a breve con i nostri video e sempre le nostre belle faccine. Assolutamente, però non solo perché molti di voi hanno già visto, abbiamo qualche migliaio di visitatori al mese sul nostro sito ma state crescendo, come sta crescendo la nostra pagina, siamo a 8000 like, stiamo crescendo settimana dopo settimana. Quindi vi diciamo grazie perché senza di voi... Grazie, grazie perché siete tutti follower reali quindi ci state seguendo davvero, ci mettete i like, ci commentate, quindi a noi piace, interagite con noi perché... Sempre. Quindi scriveteci e chiedeteci qualsiasi cosa. Io passerei a far vedere velocissimamente il nostro sito. Vi facciamo vedere velocissimamente il nostro sito. Eccolo qua. È nato da qualche mese, ci stiamo lavorando giorno dopo giorno. Qui troverete i nostri servizi, quello che facciamo per voi. Un portfolio dove ci sono degli immobili in vendita e in affitto che ci teniamo a precisare non sono nostri. Noi non siamo un immobiliare di professione, non vendiamo case da anni quindi non sappiamo come si fa. Però sappiamo bene come si fa a fare un po' di comunicazione, a far arrivare quello che serve alla gente. E l'obiettivo è portare la gente dai professionisti dell'isola. Ossia, professionisti dell'isola, italiani, canari, inglesi che ci sono da anni, che lavorano qui, che hanno già fatto uno storico, che la gente li conosce, che sanno quello che stanno facendo. Noi non facciamo altro che aiutare loro a sponsorizzarsi, ad avere più comunicazione e raggiungere più gente possibile. Poi ragazzi, parliamoci chiaro, ad ognuno il proprio mestiere. Siete d'accordo? Direi di sì. E Scopi Tenerife, tra le altre cose, abbiamo qui nelle news tutta la nostra sezione, anche le offerte di lavoro, le ultime ore e soprattutto su Scopi Tenerife, mi interessa far vedere, abbiamo una sezione Scopi l'isola dove potete andare a visitare visualmente. Li portiamo dentro, gli diamo un piccolo assaggino. Sì, visualmente. E poi se lo vanno a vedere perché speriamo anche di avervi un po' incuriosi. Sì, ci sono tutto quello che secondo noi, ok, è importante da farvi vedere dell'isola. Attenzione, è un'isola, è vero, ma è grande. Ci sono veramente tante cose da vedere. Quindi anche il nostro consiglio, quando venite qui in vacanza e venite in un albergo, non state in albergo, uscite. Vedete perché l'isola è veramente bella. Tenerife è davvero una bella isola e venirci in albergo, passare una settimana, dieci giorni in albergo, chiusi dentro, come si fa o lì, inclusive in Egitto, piuttosto che in giro in altre isole, secondo noi è uno spreco. Perché quest'isola offre davvero tanto, sia come introterra, sia come mare, oceano, spiagge, ci sono tante belle cose da vedere. L'ultima cosa, per quanto riguarda i contatti, vedete la nostra posizione, ma nei servizi, su chi siamo, ok, ci siamo sempre noi due, più Marco e Giovanna che non sono presenti nel video, ma eccoci qua, le nostre belle faccine, con la descrizione di quello che abbiamo fatto e sappiamo fare. E in fondo troverete la nostra pagina Facebook personale e i nostri contatti. Quindi, se io vi sto più simpatica, scrivete a me. Sì, perché qui ci sono... Se vi sto più simpatico lui, vabbè, scrivete a lui. Sì, qua sotto trovate il link Facebook diretto della persona interessata, mio, di Selvaggia, Marco o Giovanna, e la mail diretta. Quindi, se volete scrivere una mail senza che io sappia che gli avete scritto, scrivete a lei. Quindi, oppure, c'è qui il form, è molto semplice, lasciate nome, mail, telefono, richiesta e noi vi risponderemo il più breve tempo possibile. Ecco, dormiamo anche noi, quindi è capitato che durante la notte ci siano arrivati dei messaggi, ben venga, magari rispondiamo anche alle tre del mattino perché siamo in giro, magari no e rispondiamo la mattina. Quindi, nel più breve tempo possibile, in base anche alle nostre possibilità, perché abbiamo la vita anche noi. Ovviamente, come la vostra e vogliamo aiutare a rendere la vostra come la nostra che sta diventando sempre più bella qui a Tenerife. Quindi, grazie, un bacione a tutti, buon proseguimento e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!